buongiorno benvenuti a questa zuppa di oggi lunedì 5 novembre intanto mi scuso con tanti di voi che mi hanno scritto mi hanno messaggi devo dire che questo mi rende molto orgoglioso per il fatto che negli ultimi tre giorni questa zuppa non c'è stata molto detto sei morto stai male che succede stavo a londra sono andato due tre giorni con la mia famiglia fuori e per la prima volta da qualche mese direi sono cinque anni che faccio questa zuppa ormai e mi sono veramente preso tre giorni off in realtà non sono stati così off perché stavo preparando la puntata di oggi di questa sera in onda a rete 4 però mi scuso con quelli tanti che hanno voluto comunque mandarmi dei messaggini per chiedere che fine aveva fatto la zuppa mi fa piacere che questa zuppa un po come la nicotina sia addictive e quindi oggi si riprende si riprende e devo dire la verità che si riprende alla fine di un circuito che riporta dopo tre giorni le stesse cose di tre giorni fa non è che sia cambiato il mondo ci sono gli stessi temi le stesse notizie le stesse polemiche all'interno del movimento 5 stelle contro la lega insomma ci sono un po le stesse storie di ieri se non più se non una tragedia in più quella della casetta abusiva che ieri è stata distrutta sul greto di un fiume in sicilia e che ha provocato nove morti nove orribili morti soprattutto oggi i giornali raccontano la cronaca di quella storia tutti i giornali tutti i telegiornali tutte aug giorgio tutte le televisioni le hanno raccontato ieri però c'è una vicenda ovviamente noi interessano i lati diciamo che non potete leggere da soli sui giornali o nel senso che leggete sui giornali ma non avendo letto tutti i giornali non potete sintetizzarli che è il senso di questa zuppa e cioè il mondo si divide in due si divide in salvini e anche conte che dicono ragazzi ma qua la burocrazia e anche un certo ambientalismo senza senso non ha permesso a noi di tagliare un albero pulito di un greto di un fiume e poter operare con delle opere perché in questo paese non si potevano fare opere e non solo grandi opere ma anche piccole opere perché erano tutte quante sotto vanno tutte sotto processo poi sono complicatissime da fare e dall'altra quelli che dicono rizzo tozzi sulla stampa ferruccio migliaia il 90 per cento invece dei nostri giornalisti straordinari con il loro grande senso della realtà ci dicono invece in questo paese il problema sono i condoni votati da salvini dal 94 in poi cioè il problema è la cementificazione i condoni e andrebbe anche bene evidente che i condoni non piacciono e soprattutto si inseriscono in un condono quello di ischia che grida vendetta proprio oggi a pochi giorni dalla tragedia siciliana e a pochi mesi dalla tragedia sempre a ischia del terremoto ma c'è un piccolo problema questa casa in sicilia sul greto del fiume è stata non condonata era abusiva e doveva essere semplicemente rasa al suolo punto e in italia non si può soprattutto nel sud italia non si possono radere le case al suolo perché è impossibile perché costa perché i comuni non lo fanno perché i sindaci non sono d'accordo perché ci sono i ricorsi che non hanno mai termine quelli si avrebbero bisogno di una prescrizione invece il loro c'è fine pena mai e quindi gli stessi che oggi vogliono avere una prescrizione eterna sono gli stessi che ci dicono che si dovrebbe abbattere tutto senza neanche una sentenza cioè tutto si abbatte tutto ciao stefano quindi il tema è veramente paradossale tra l'altro il sindaco di quella città che doveva abbattere quella casa è lì sindaco dal 2008 ci buongiorno a gabriele nel 2018 sono passati dieci anni e il tarra a cui aveva ricorso il proprietario di quella casa aveva detto che il ricorso non era ammettibile quindi il sindaco ha detto anche una bugia nel dire che quella casa non poteva essere devastata ma in realtà in tutta la sicilia in tutta la calabria in gran parte della campania se voi trovate un sindaco che prova ad abbattere delle case abusive che non siano proprio del venue dello scappato di casa appunto non ci riescono vengono non vengono riletti vengono fatti fuori perché sono considerate e patrimonio delle persone e quindi non sono sono fatte contro le leggi e nessuno riesce ad abbattere ci sono dei numeri certo che ci sono dei numeri oggi il Corriere della Sera li pubblica ma non solo in un pezzo di Repubblica li li mette ed è molto semplice vi li faccio subito io questi numeri cioè in italia ci sono aspettate un attimo il numero esatto era 80 mila decreti no scusatemi ordinanze perché dipendono dai comuni su 71 mila immobili colpiti da ordinanza di demolizione l'ottanta per cento negli ultimi 15 anni non è stato demolito ma di che stiamo parlando quindi questo secondo voi è l'abusivismo certo che l'abusivismo e la cementificazione certo che la cementificazione ma che si compone di poveracci che hanno costruito le case di muratori come scrive oggi sallusti che le hanno tirate su di architetti e nel caso siciliano di affitti io se devo affittare una casa a Milano o a Roma o a Bergamo o a Bari e sono una persona per bene devo fare la certificazione energetica in questo paese non posso affittare una casa senza la certificazione energetica senza avere dimostrato che la mia cazzo di caldaia deve essere revisionata ogni due anni senza aver dimostrato tutto e questi affittano una casa in Sicilia che ha un decreto di distruzione dal 2008 muoiono nove persone stiamo ancora qua a fare la tralla là che colpa ma di che stiamo parlando ma perché Anna perché io a Milano devo dare la certificazione energetica 300 euro di tasse che pago sull'altare del 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 come si chiama del cambiamento climatico a ragione Franco Battaglia e a ragione anche Salvini abbiamo messo burocrazia ambientalismo incapacità di fare nuove leggi decreti super appalti quando l'anno riusciamo semplicemente a demolire una casa che tutti quanti anche magistrati ci hanno detto che è demolibile come altre 71 mila certo mi spiace per i morti è una storia drammatica ed erano anche affittuari ma io trovo che è un altro mondo che io non posso comprendere poi dopo mi dovete spiegare che cosa c'entra la cementificazione con gli alberi distrutti in Veneto con il miliardo di che Veneto e Friuli Venezia Giulia oggi rivendicano su tutti i giornali per quello che è successo sì può essere che ci sia stata qualche po' di identificazione o forse pensiamo che lì quei boschi non si potevano sfoltire o lì pensiamo che non si poteva togliere la ghiaia dai fiumi perché vengono la ghiaia viene considerata in Veneto e in Friuli Venezia Giulia da ambientalisti e burocrati e leggi come quasi un rifiuto un rifiuto speciale 5 milioni di euro tra l'altro per quel fiume in Sicilia sapete da dove arrivavano per metterlo a posto venivano dall'Unione Europea 5 milioni di euro li avevano dato a quel fiume che poi ha ucciso 9 persone non è il fiume che li ha uccisi sono gli uomini che hanno assassinato se stessi bene allora 5 milioni sapete quando li avevano stanziati 20 anni fa sapete cosa ha fatto la regione Sicilia il comune di Sicilia il burocrati di Sicilia il sindaco di Sicilia non me ne fotte nulla ma loro l'hanno fatti non sono riusciti a spenderli non sono riusciti a spenderli 5 milioni per rimettere a posto quel fiume sapete che cosa dico non piango piango per i morti ma non piango per il territorio devastato ognuno è veramente vittima di se stesso quello io non posso piangere quando vengo a sapere che ci sono 5 milioni di fondi pubblici europei che non sono stati utilizzati per mettere a posto quel fiume perché non ci siamo dimenticati sarà colpa di Juncker eh sarà colpa di Juncker che non abbiamo usato quei 5 milioni ma vabbè andiamo avanti invece nel frattempo mentre in Italia una casa che dal 2008 non è stata abbattuta mentre in Italia ci sono violentatori spacciatori omicidi che girano omicidi forse no ma che girano indisturbati bianchi gialli verdi neri di qualsiasi colore che girano per questa città il problema sapete quale di questo paese secondo Bonafete è non far finire la prescrizione cioè il problema qua non è la pena certa è che non ci sia prescrizione sapete che vuol dire prescrizione che se io oggi faccio un processo e vengo anche accolta la mia istanza in primo grado cioè mi considerano innocente da quel momento in poi se c'è un ricorso in appello non c'è più prescrizione cioè per tutta la vita i magistrati possono tenermi a loro disposizione è evidente che la logica è quella di Travaglio che oggi fa intervistare di Matteo un magistrato che si è inventato quella fuffa di stato mafia stato mafia e si è inventato ci sarà una sentenza a suo favore vedremo come finirà questa vicenda che ha appunto già questa vent'anni è una cosa che riguarda il 94 e ancora vogliamo indagare e arriveremo al 2030 a condannare dei cento delle persone che hanno 120 anni ma comunque sia andiamo avanti sapete qual è la logica perfetta oggi la svela Travaglio quando Salvini viene assolto viene archiviato per la questione vi ricorderete della nave 18 che non gli fa sbarcare sequesto di persona arresto che non era legittimato tutto una serie sequesto di persona gli avevano dato viene arrestato viene indagato vi ricordate tutta la show che aveva fatto Salvini e poi viene archiviato da un altro magistrato e allora Salvini dice beh insomma questa inchiesta si è rivelato quello che era totalmente inutile e allora sapete come chiosa oggi Travaglio me lo so scritto perché bene che voi lo sappiate perché questa è la cacchio di mentalità che hanno nella loro testa senza l'inchiesta come avrebbero fatto i magistrati ad appurare che il reato non esisteva dice coloro che si lamentano di questa inchiesta hanno bisogno di ripetizioni di diritto o di logica allora le ripetizioni di diritto e di logica sono secondo la logica di Travaglio che tutti devono essere indagati ci vuole un'inchiesta su ognuno di noi perché la logica che ho letto orrenda in una intervista a uno che accusa Sangalli di non so che aver fatto con la sua segretaria è male non fare e com'è e non è nulla da temere no cari non è così perché se tu non fai nulla di male tu hai comunque da temere che hai un'inchiesta e quell'inchiesta si può protare all'infinito perché loro non vogliono la prescrizione e comunque mentre fa l'inchiesta c'è qualcuno che alza il dito e dice che sei un indagato e quindi se sei un indagato e non sei uno dei loro indagati cioè un amico loro se non sei l'aranci se non sei no garin se non sei l'appendino cioè se non sei un indagato dei loro amici giustizialisti se non sei ingroia che è indagato allora se non sei uno di quegli indagati sei già un condannato tutti gli altri invece sono assolti da questa specie di giudizio morale che è quello di Travaglio e perché quindi arrivo a Sangalli perché oggi leggo un'intervista orrenda di questo UG suo vicepresidente in cui non si capisce peraltro nulla ci sarebbe una segretaria che è stata pagata 216 mila euro questo devo dire che è piuttosto singolare da Sangalli e sarebbe stata pagata a Sangalli e in questa intervista che io vorrei dire ai miei colleghi giornalisti spiegatecelo cioè voi sapete tutto siete dei geni sapete esattamente tutta la vicenda magari a noi lettori che non sappiamo nulla di che cos'è questa vicenda di che il pagamento di che ci fate capire che è successo non ce lo fanno capire questo è un'intervista fatta da UG in cui non capite assolutamente nulla ma evidentemente il succo di questa vicenda è che ci sarebbe mi sembra di aver capito una segretaria molestata da Sangalli dopo vent'anni questo gli da 216 mila euro e c'è una specie di fronda all'interno della Confcommercio contro Sangalli questa vicenda non la capite dagli giornali la capite da una specie di ricostruzione che vi faccio motivo per il quale qualcuno di voi tanti spero mi stiano guardando allora il concetto di questo Paolo UG quindi invece presidente male non fare temere e non è nulla da temere non so neanche come si dica questa frase volgarissima il punto che in Italia questa cosa non vale e diciamo a naso mi sembra che sia una grande macchinazione ma non un complotto ma che ci sia qualche cosa che non vogliono perdonare a Sangalli oggi Ferrara sul foglio del lunedì ci spiega perché lui vorrebbe che tornassero i tecnici non Renzi i tecnici allora io devo dire che la deriva di Ferrara è una deriva che non comprendo non comprendo perché tra l'altro non si comprende neanche bene quello che scrive ma non si comprende neanche la logica di cioè è evidente che ci vuole e che è necessaria un'opposizione a qualsiasi governo e mi piace l'idea che ci sia un'opposizione anche a questo governo ma sentirmi dire da Ferrara una specie di nostalgia nei confronti di Monti che uccise quel governo che idealmente vede in Ferrara uno dei suoi autori principali cioè il governo Berlusconi beh insomma io la trovo non riesco più a capire nulla non riesco veramente a capire più nulla e forse non lo capisce neanche lui diciamo la verità e l'ultima segnalazione che vi faccio Alessandro Gnocchi oggi sulla grande guerra in cui oggi il Daily Mail fa vedere una foto stupenda di Londra con tutti i lumicini per gli 885 mila morti che anche gli inglesi hanno avuto nella prima guerra mondiale mentre l'Italia sembra averne paura di questa guerra mondiale è una vittoria che a noi ci fa schifo nonostante sia stata una vittoria italiana e Gnocchi con grande secondo me sensibilità sul giornale oggi ci racconta non solo quella guerra ma per una volta anche la sua storia personale del papà del nonno scusatemi un ragazzo del 99 1899 che ha combattuto quella guerra e che è ritornato uno dei pochi da quella guerra e che quando morì l'unica cosa che volle è essere ricordato con la sua divisa da soldato oltre alle tante altre cose che aveva fatto nella vita ma quello che veramente lo aveva reso orgoglioso era essere italiano e soldato poi certo si poteva anche dice qualcuno come benedetto quindicesimo ottenere la stessa cosa con la diplomazia ma col senno di poi siamo tutti fenomeni anche a raccontare come si sarebbe potuto risolvere il problema del maltempo in Italia direi che per oggi è tutto io vi do appuntamento domani sera con matrix e questa sera con quarta repubblica i due appuntamenti per l'informazione quindi questa sera alle 21 e 30 su rete 4 quarta repubblica e domani sera in seconda serata matrix un saluto a tutti quanti voi ciao dal brasile grandissimi amici brasiliani che ogni tanto mi seguono e eravamo alleati degli austro-ungari ci dice francesco qui quindi qui c'è l'idea di averli traditi poi con il patto di londra mi sembra che sia il patto con cui noi ci carlo ciao nicola buona giornata anche a te carlo nadia yes françoise come sempre dice inchiodati a quarta repubblica ciao silvia ci vediamo questa sera grazie grazie grazie